Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Quest'oggi la nostra informazione parte da Agnone, capitale della cultura 2026. In attesa della proclamazione di domani, il sindaco Saia invita a mettere un like al video della candidatura, un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, il servizio di Carla Marino. Manca ormai solo un giorno alla proclamazione della città che si aggiudicherà il titolo di capitale italiana della cultura 2026 e il sindaco di Agnone, Daniele Saia, chiama a raccolta tutti i molisani chiedendo di supportare l'Atene del Sannio. Come? Mettendo un like al video ufficiale presentato in occasione della candidatura e pubblicato sulla pagina Facebook del primo cittadino. Un modo per dimostrare l'apprezzamento più vasto possibile nei confronti delle bellezze, della storia e delle tradizioni, non soltanto della cittadina alto molisana, ma dell'intera regione. Perché, tenendo fede a quanto da sempre dichiarato da Saia, il filmato non mostra solamente Agnone, ma i luoghi, le tradizioni e gli aspetti del patrimonio artistico e culturale più significativi del Molise. Così, accanto all'artigianalità della pontificia fonderia Marinelli, trova posto quella delle merlettaie intente a realizzare il tombolo di Isernia. Insieme all'andocciata agnonese, sfilano le immagini della carrese di San Martino in Pensilis, dell'incendio del Castello di Termoli, del Corpus Domini di Campobasso, del Carnevale di Larino e di quello delle maschere zoomorfe di Isernia. E ancora i siti archeologici, i monumenti e i punti d'attrazione che rendono unica la città delle campane e tutto il territorio della regione più recente d'Italia. Un video bellissimo ed emozionante che rappresenta appieno i valori dello slogan scelto da Agnone per concorrere a Capitale Italiana della Cultura 2026. Quel fuoco dentro, margine al centro, che caratterizza il popolo molisano. La sua forza, la sua resilienza, il suo orgoglio, il suo ingegno, la sua operosità. Domani mattina saranno sciolte le riserve e sarà decretata la città vincitrice tra le dieci finaliste, tra cui compaiono anche Alba, Gaeta, L'Aquila, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. La cerimonia di proclamazione potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 11 sul canale YouTube del Ministero della Cultura. Il Molise aspetterà con il fiato sospeso e le dita incrociate. Andiamo a vedere ora quali sono le notizie delle ultime ore. Iniziamo la nostra carrellata sui quotidiani online. Apriamo innanzitutto la pagina dei TV in Molise, che apre con questo incidente tra un'auto e un tir al nucleo industriale, automobilista è finito in ospedale. Siamo in territorio di Termoli e poi Isernia ha fermato autobus senza assicurazione e quindi i viaggiatori sono rimasti a piedi. E poi la cronaca con un altro caso di stalking, questa volta a finire nei guai, è una donna. Passiamo sul quotidiano del Molise. Sindaco Campobasso in ascesa alle quotazioni di Pallante, venerdì nuovo incontro a Roma. Fratelli d'Italia vuole il capoluogo di Regione ed è in pressing sull'uomo forte del partito, faccio politica e sono a disposizione, dice. Poi le Figaro che celebra il Molise, Roberti stuzzica il Corriere. Poi questa domanda, tornare con l'Abruzzo dopo 60 anni, un bene o un male separarsi? E se non ci rivolessero? Si parla poi della soppressione dell'istituto scolastico di Ripa di Mosani perché l'atto è stato dichiarato nullo, il Tar infatti ha accolto il ricorso. Molise, oggi nuova bocciatura per i conti di Toma, arriva dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 39 del 2024. La Corte ha dichiarato l'illegittimità del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020 e l'illegittimità della legge di stabilità 2022 e dell'assestamento del bilancio di previsione 2021-23 oltre che delle modifiche di leggi regionali, quindi oltre 90 milioni di euro di disavanzo aggiuntivo. Le scritture di competenza del 2021 si sviluppavano, dice la Corte, sulla base di un disavanzo di amministrazione gravemente sottostimato, cristallizzato nella legislazione regionale di approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio stesso. Futuro Molise, la home page, ottantesimo del bombardamento di Venafro, da decenni dichiarata città martire per il sacrificio di tanti civili. E poi Campobasso, sicurezza urbana, trovare soluzioni condivise per i cittadini. Sempre su Futuro Molise, leggiamo del dimensionamento scolastico perché il TAR, come abbiamo detto prima, dichiara illegittimo l'iter portato avanti dal Consiglio regionale quindi si rimette tutto in discussione. Abbiamo vinto su tutta la linea, dice il sindaco Marco Giampaolo, perché il TAR è entrato nel merito così come avevamo chiesto e si è pronunciato con una sentenza definitiva senza passare dalla sospensiva. e poi un veloce passaggio sulla nostra pagina Facebook che ci racconta dell'avventura di Martina Dei Zernia che purtroppo partecipando ad Affari Tuoi è tornata a casa a mani vuote. Quindi nella puntata dell'altra sera di Affari Tuoi, il noto game show di Rai 1 condotto di Amadeus, Martina è stata in dubbia protagonista di una serata ricca di tensioni e colpi di scena, purtroppo però il bottino è stato magro. Passiamo ora su i cartacei, siamo su Nuovo Molise, Tomaci, Abbucati e La Grande, la sentenza della Corte Costituzionale sull'illegittimità del bilancio regionale, il ragioniere governatore ha tenuto nascosti 94 milioni di disavanzo, così il pesante debito regionale sul gruppone dei molisani sale a 667 milioni di euro. PD e Movimento 5 Stelle con Fanelli e Primiani puntano il dito anche contro Roberti che ha in maggioranza diversi uomini del suo disastroso predecessore. In alto c'è l'analisi del voto in Abruzzo dall'Istituto Cattaneo, a battere il centro-sinistra è stato l'astenzionismo. L'abbraccio nella foto lo vedete tra Marsilio e D'Amico all'Università di Teramo, come ha funzionato la macchina elettorale del PD, nessuna donna in consiglio. E poi l'incremento del 21% del 2023, Molise piccolo gigante in export al secondo posto in Italia dopo i campani, commerci cenute per 1.225 milioni di euro. Ancora il Molise ferma la cancellina di Meloni, questa è la storica sentenza del TAR, unica in Italia che accoglie appunto il TAR, i ricorsi dei comuni contro l'accorpamento delle scuole eseguito dalla regione per conto del governo. E poi Unimol che promuove i piccoli comuni l'iniziativa con la Sapienza di Roma, ieri la firma nella capitale di un protocollo d'intesa, sottoscritto per Unimol dal docente di economia Giuliano Resce, che ha il preciso obiettivo di assicurare la giusta attenzione scientifico, culturale e visibilità istituzionale alle politiche europee nei contesti urbani e rurali italiani. Bene, lasciamo anche Nuovo Molise per spostarci su primo piano, il titolo Molise sublime, Roberti Le Figaro meglio del Corriere, il quotidiano francese esalta la regione, assist ghiotto per il presidente che con un post lapidario si toglie i sassolini dalla scarpa dopo l'inchiesta della Gabanelli. Mastella ripropone il Molisagno, la riannessione di Serni all'Abruzzo non è una soluzione utile né efficace. E poi a centropagina ancora il dimensionamento, sberla del Tarra al Consiglio, annullata come dicevamo la delibera, quindi la scuola dei Ripa Limosani non sarà smembrata, raggiante il sindaco Giampaolo, abbiamo vinto su tutta la linea, iter illegittimo. E poi i conti di Palazzo Vitale, altri 100 milioni da ripianare, Cefarati dice non è vero, già corretto l'assessore, risolto prima del pronunciamento della consulta. E poi a Campobasso, Presidio Polferre più telecamere, passa in assise l'ordine del giorno. Invece da Termoli, servizi efficienti e meglio organizzati, Roberti e Di Santo, ribadiscono l'impegno. A Boiano, la prima del nuovo arcivesco in città, ovazione per Colaianni, a Colletorto, invece Guasti a Catena, mele scrivi a Tim, disagi insostenibili. Infine le regionali in Abruzzo, il sente non paga, la paladina Bocchino tradita dagli elettori. Andiamo avanti, ci spostiamo all'interno di primo piano, Roberti se l'è legata al dito, autonomia fallita, meglio le Figaro che il Corriere, fa discutere quindi il post del governatore da Mastela. Intanto l'appello, tornare con l'Abruzzo non ha senso, dice, diamo vita al Molisagno. Ma Gravina lo incalza, dia risposte, Gabanelli non ha leso nessuna maestà a causa degli errori della politica, tanti cittadini preferirebbero l'annessione. Andiamo ora a pagina 3, consultivo 2020 illegittimo, correttivi già approvati, l'assessore Cefaratti dice né sorpresi né amareggiati dal verdetto della consulta, non c'è nessun buco aggiuntivo nei nostri conti. 5 Stelle e PD però vanno all'attacco, Primiani dice danno la colpa a Toma, sono gli stessi che lo sostenevano. Fanelli, Cittabersani, hanno fatto finta di nulla con un elefante nel corridoio, mancano però 100 milioni nuovi. E poi ancora gare d'appalto, Asrem, Wiltux non molla, nessun riscontro, SOS a Roberti e Iorio, il sindacato chiede un incontro ai vertici della regione per tracciare lo stato dell'arte. Andiamo ora sulla pagina di Campobasso, Ripalimosani vince la battaglia, schiaffo del Tarra al piano di dimensionamento scolastico, annullata la delibera del Consiglio regionale che ha cancellato la dirigenza dell'istituto. Alighieri e poi, altro argomento, fondi per le telecamere e reattivazione della Polfer, l'assise chiama in causa i parlamentari. L'Odg è approvato dopo la seduta monotematica sulla sicurezza urbana. Pagina di Sernia, il dibattito sull'autonomia che divide la comunità Peni, tra Bucci spinge per l'annessione della provincia all'Abruzzo e Izzo risponde fondando un comitato a difesa dell'indipendenza. Il questore della Cioppa è in visita a comando dei Vigili del Fuoco. Ieri l'incontro in un clima di cordialità e collaborazione reciproca. Da Isernia ci spostiamo su Venafro, messa in sicurezza di strade e consortili. L'ente investe su Pozzili e Montaquila, approvati i documenti preliminari per la progettazione. Il costo complessivo è pari a 4 milioni di euro. E poi l'anniversario, 15 marzo 1944, la città ricorda l'ottantesimo anniversario del bombardamento di Venafro. Gli eventi commemorativi a cura di Comune e Associazione Winterline, domenica posa della pietra d'Inciampo della Liberation Route Europe. Infine andiamo sulla pagina di Termoli. In lettera alla Meloni, l'inerzia politica rischia di distruggerci. I imprenditori balneari quindi attendono un chiaro segnale da parte del governo sulla questione Bolkestein e in assenza di un confronto più volte invocato scrivono di nuovo al Premier Giorgia Meloni. Sbantelliamo il presidio ma senza mollare la presa. L'incontro con Roberto e Micone ne ha decretato lo scioglimento. Quindi parliamo dello scioglimento del presidio di protesta denominato Uniti per l'Agricoltura, presieduto dal giovane coltivatore Flaviano Colombo, ma non si tratta, precisano, della fine della loro battaglia, probabilmente solo l'inizio. Bene, chiudiamo così le notizie regionali. Ci spostiamo ora sulle prime dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera apre con questo titolo, alta tensione con gli uti, la nave Duilio abbatte altri due droni nel Mar Rosso, i ribelli minacciano l'Italia, staccano i nemici. Attacco in patria dei partigiani russi Filokiev, Podoliak dice Putin va sconfitto. E poi la vendita del Milan, l'inchiesta dei PM, dicono è ancora di Elliot, indagati Furlani e Gazidis dicono però noi siamo estranei. Dal Corriere ci spostiamo sulla Repubblica, la Repubblica che apre sulla lotta all'evasione, fisco lo Stato si arrende, la decisione sulla cancellazione dei debiti vale 600 miliardi tra multe, contributi e tasse che non saranno riscossi. Meloni intanto intura Trento e Bolzano, benedice la nuova deregulation fiscale, non dobbiamo vessare le imprese. E poi le accuse dell'Unione Europea al carroccio, è salito sul carro della propaganda russa. Ancora l'inchiesta sul Milan, perquisita la sede, si indaga sulla cessione del club a Cardinale. Poi la direttiva europea via libera alle case green, ma Fratelli d'Italia e Lega votano contro. Andiamo ora su Il Fatto Quotidiano per Silvio Ordina, Giorgia esegue sconti a Mediaset contro Netflix. La maggioranza accoglie le richieste del Biscione. Sconto su serie TV e film europei, meno obblighi di investimenti in Italia, quindi altro che patrioti. E poi il caso Sgarbi, imputato per 715 mila euro di debito col fisco, ma il Mart se lo tiene come numero uno. I PM dicono compro un quadro in barba alle tasse. Infine Gasparri contro Report ha 100 querele, ma sono 8 e persino Nordio lo smentisce, chiede pure un'ispezione, ma viene respinto. Andiamo ora su Il Sole 24 ore, che apre proprio sulle case green tutte le nuove regole dell'Unione Europea, efficienza energetica per le nuove case, zero emissioni dal 2030, stop ai combustibili fossi dal 2040, due anni per il recepimento della direttiva, i primi effetti si vedranno dal 2025. Poi la riforma della riscossione, cartelle fiscali, parte la caccia a 101,7 miliardi, sotto esame chi ha molti debiti. Si parla poi di intelligenza artificiale, la strategia italiana parte da 1,1 miliardi. A centro pagina, trasporto aereo, l'anno nero di Boeing, tra inchieste, incidenti e mancati controlli. Andiamo ora su Il Mattino di Napoli, ancora le case green in evidenza, c'è la stretta dell'Unione Europea, l'Europarlamento vota un testo più soft, ma c'è il no del centrodestra, altra ecofollia. Nuovi edifici a emissioni zero entro il 2030, previsto lo stop ai bonus per le caldaie a gas. E poi i volumi trafugati ai girolamini, sei condanne, sei assoluzioni. Siamo a Napoli, viene meno l'associazione a delinquere. Ancora l'interquista al ministro Lollo Brigida, i dossier sono un problema per la nostra democrazia. E poi l'intelligenza artificiale, il piano appunto che è all'agenzia anti-fake news, la via italiana, fondi per un miliardo. Lasciamo anche il mattino, andiamo a vedere invece qual è l'apertura della stampa di Torino. Governo, parabola, Salvini, a Forza Italia, i voti leghisti, studio Euromedia, le urne cambiano gli equilibri tra i partiti, ma non tra i poli. Nomine, rivoluzione, Meloni, Delfante va, CDP, subito il nuovo CDA. Rai, e poi di spalla l'inchiesta, mafia, il nuovo affare delle droghe sintetiche, i campi di oppio distrutti dai talebani. Ancora il Mar Rosso, le minacce iuti, nemici dell'Italia, nave Duilio abbatte due droni. Lasciamo anche la stampa, andiamo a vedere come apre invece a venire. Scudo anti-fentanil, illustrato il piano per prevenire la diffusione degli oppioidi sintetici, Meloni dici tra i primi. In Europa, in Italia, finora due morti, ma spaventa il caso degli Stati Uniti. Spaccio sul web, in campo le mafie, effetti 30-50 volte più potenti dell'eroina, bastano 3 milligrammi per intossicarsi. A centro pagina andiamo in Medio Oriente, salpa la Open Arms con gli aiuti a Gaza, Martina dice servono corridoi umanitari, e poi dall'Europa la casa diventerà solo green, ma ogni Stato stabilirà come. Il Parlamento europeo approva la direttiva, il centrodestra italiano, lo abbiamo detto, vota invece contro. Siamo ora su Il Giornale, le mosse di Parazzocchigi, un miliardo per connettersi all'intelligenza artificiale, e poi la guerra al Fentalin, nuova eroina, via ai controlli su ospedali e web. Il conflitto a Gaza, tregua in Palestina, a spiragli di Hamas sulla proposta degli Stati Uniti. E poi ancora il caso d'ostieraggi, veleni e insulti, nella chat dei PM, Fai da Tratoghe alla procura di Perugia, De Benedetti convocato all'antimafia. E poi l'inchiesta sul Milan e ancora di Elliot, indagati, lo abbiamo detto, Furlani e Gazidis. E poi il caso di Sgarbi, a processo, lui dice, atto insensato per l'acquisto appunto di un quadro. Andiamo ora su Il Manifesto, nomi, cose, città, il titolo di apertura. A nove giorni dal deposito delle liste, centro-sinistra e 5 Stelle non hanno ancora trovato il candidato alla presidenza della Basilicata. Chiorazzo è sempre in campo, ma anche no, spunta l'ennesimo nome del giorno e si torna al punto di partenza. Stiamo trattando. E poi Gaza senza tregua, Netanyahu insiste, operazione terrestre su Rafah, al Nasser, medici abusati. Per ore, poi da Strasburgo, il caso Salis, il padre di Ilaria Salis, dice, l'Ungheria, rispetti le regole dell'Unione Europea. Siamo ora sul Libero. Ucciso dai numeri, il funerale del Campo Largo. I dati lo confermano, Movimento 5 Stelle per devoti quando corre con il PD e i centristi fungono, scusate, se nella coalizione c'è Conte. La grande alleanza giallorossa non sta in piedi, scrive Libero. E poi i Dem che fanno il processo ai loro elettori maschilisti in Abruzzo eletti con preferenze solo uomini. Ancora l'Open Arms all'assalto di Gaza, la ONG sfida Israele e poi sulle stalle equiparate a fabbriche doppia mazzata verde dell'Unione Europea su casa e allevamenti. A centropagina le rivelazioni del generale Vannacci dalla fidanzata nera alla trans a sua insaputa. Bene, siamo in chiusura quindi andiamo a leggere le notizie della Gazzetta dello Sport. Il Milan è ancora di L8 indagine della Procura di Milano perquisita dunque la sede. Il controllo non sarebbe mai passato a Cardinale. Gazidis e Furlani indagati, dicono noi estranei. Il club però rischia multe e anche penalizzazioni. E poi ancora di spalla Lazio Sarri dice basta dalle dimissioni Rocchi Close e Tudor in corsa ora c'è Martuscello in alto invece l'Inter senza paura Champions San Madrid con l'Atletico Simeone va all'assalto Inzaghi risponde con Lautaro invece la sconfitta del Napoli quindi Napoli fuori Juve al Mondiale i bianconeri al torneo FIFA passa il Barsa ma c'era il rigore su Simen Calzona perché il VAR non è intervenuto e con questa domanda si chiude la nostra rassegna di oggi vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi rimando all'appuntamento in diretta delle 13 e 30 con il nostro telegiornale a tutti voi l'augurio di una buona giornata Benvenuti all'oroscopo di oggi mercoledì 13 marzo Ariete durante la giornata potrete recuperare in amore soprattutto se venite da un periodo di forte stress da domenica il sole sarà favorevole per cui potrete tornare a risplendere Toro ottimi incontri per chi è single da tempo e ha voglia di rimettersi in gioco siete però molto critici sia di voi stessi che di chi vi circonda anche sul lavoro mantenete la calma Gemelli sarà una giornata da vivere con tanta pazienza sarete un po' sottotono presi magari da una certa malinconia reagirete con tanto nervosismo Cancro l'una favorevole durante questa giornata venite da momenti di forte stress ma potrete ritrovare serenità e sollievo d'altronde avete Saturno che vi protegge se volete costruire nuovi progetti Leone in amore e in generale nei rapporti sociali date spazio solo a relazioni autentiche nel fine settimana potete recuperare e ritrovare entusiasmo per quanto riguarda il lavoro una richiesta non darà i frutti sperati almeno per il momento Vergine tanta agitazione in amore e grande preoccupazione qualcosa non va come vorreste per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci complicazioni e discussioni Bilancia per voi si prevedono giornate positive in amore grazie alla luna nel segno attenzione alle spese che ultimamente sono state eccessive cercate di risparmiare Scorpione con Venere e Marte in aspetto critico l'amore non può essere certo al top meglio essere prudenti sul lavoro Giove e Mercurio sono in buon aspetto affrontate ora i problemi legali superateli con serenità Sagittario in amore non tutto è favorevole o positivo anzi state attenti alle relazioni soprattutto se avete avuto delle incomprensioni con il partner è un periodo di grandi stimoli e creatività potete costruire qualcosa di speciale sul lavoro Capricorno Sarà una giornata positiva in amore visto che la luna è favorevole ma avete nuovi impegni e responsabilità sono giorni difficili e rischiate di sentirvi sovrastati Acquario soluzioni e rassicurazioni dopo un periodo complesso e di forte stress non temete entro pochi giorni le cose miglioreranno notevolmente Pesci Sarà una giornata confusa in amore a causa della luna in opposizione sul lavoro però potete mettere in atto qualche buona idea sfruttando il transito di Giove Questa rassegna stampa è offerta da ICM Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli Radio Surgery Center di Agropoli